Primavera 2020 Oggi è arrivata la primavera, ma tutti da un mese siamo in quarantena. Tutti i bambini stanno in pena per questo virus che ci porta fuori scena. Senza giochi e senza scuola, tra grandi c'è tanta paura per questa sventura. Siamo tutti tristi e delusi. Siamo tutti tristi e delusi. Io voglio andare a scuola. Ciao a tutti, voi dovete stare a casa. Noi vogliamo ritornare a scuola. Noi vogliamo ritornare a scuola. Noi vogliamo ritornare a scuola. Vestello voglio andare a scuola. Vespiano, vespiano voglio andare a scuola. Grazie. Io sono Gioelle e siamo tutti a casa. A teatro tutto bene. Brava, brava, Maria Rosa, ogni cosa sai con tu. Qui la vita è sempre rosa, solo quando ci sei tu. Ciao a tutti. Grazie a tutti.